Onorevole Maullo, la coordinatrice Gelmini ha detto che questa battaglia per il referendum è anche una battaglia per le prossime elezioni politiche, ma anche per la trasparenza. Ma non c'è dubbio, intanto credo che vada sottolineato che la trasparenza è una trasparenza dei conti contabile e quindi garantire che le tasse di tutti gli italiani, ma in particolare dei lombardi, abbiano una destinazione d'uso puntuale, significa trasparenza, che è quello che i cittadini desiderano ottenere nel momento in cui chiedono alla politica di risolvere i problemi, da quelli della disoccupazione fino alla sicurezza, problemi che si possono risolvere con risorse dedicate. Purtroppo uno Stato centrale, incapace di poter rispettare le differenze, non ci porta all'efficienza. Forza Italia si sta impegnando molto anche sul territorio, qual è la percezione dei cittadini? Lei ha insistito sul fatto che si debba andare a votare, qual è secondo lei? Io credo che occorra spiegare molto bene che noi lavoriamo per un federalismo solidare, per un'autonomia responsabile, nulla a che vedere con progetti diversi da quelli dell'unità nazionale. Questo va spiegato bene ai cittadini, sono certo che lo capiranno proprio perché l'Italia è unita e tale deve restare. Da parlamentare europeo come sta guardando la questione catalana? La questione catalana è stato un tragico, terribile errore fatto dal governo catalano che gode già di un'autonomia unica, di una bandiera, di una lingua e di un sistema di sicurezza che non ha pa' in tutto il resto d'Europa. Quello che abbiamo assistito è stato un vero e proprio golpe.